Ma per me è così fa anche lui, si mette in un'esperia Mi chiamo di sì, gli bordei può forse attaccate a me E' perché ha più confidenza E ma io sono all'epica a qualcosa Ah, ma no, ma no, ma no Ma no, ma no, ma no Perché è da un po' giovedì Ah, li firmo, va, quindi ora si E infatti li sto filmando Ah, buono E' il Dogerman, quello è il Dogerman Grazie